Ermes Mattielli è morto. Il cuore del rigatiere di Arsiero non ce l'ha fatta. Si è fermato dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione all'ospedale di Sant'Orso a causa di una crisi cardiaca. Ma forse la sua vita era già finita la notte del 13 giugno 2006, quando esasperato dai continui furti aveva sparato ferendoli contro due ladri sorpresi nel suo magazzino. La giustizia italiana per Ermes Mattielli è stata una condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per duplice tentato omicidio ed un risarcimento danni di 135 mila euro per i ladri. Una cifra che il rigatiere di Arsiero non ha neanche mai visto in tutta la sua vita. Chiusa la piccola ditta che gli dava da mangiare, dopo la morte della madre Ermes Mattielli viveva solo nella frazione di Scalini. Mangiava a grazie all'orto, ad una gallina. Nella testa e nel cuore pesava come un macigno quella condanna, una ingiustizia di cui non riusciva a capacitarsi. E' tutta una maieria, no? Mangiano i magistrati, mangiano gli avvocati, tutti mangiano, no? E quel povero diavolo che viene derubato viene distrutto. Il 22 ottobre Mattielli aveva ricevuto la visita di Graziano Stacchio e Roberto Zancani, protagonisti della sventata rapina di Nanto. Gli avevano consegnato un assegno di 2000 euro per le spese legali, frutto della solidarietà dei cittadini. A Ponte di Nanto, al dolore per la scomparsa di Ermes, si unisce la rabbia. Adesso io prenderei questo giudice, lo guarderei in faccia e gli direi sei contento? Sei contento? Perché questo uomo è morto di crepa cuore, credimi. E continuava a dirmi, anche l'ultima volta che l'ho visto, sto male, sto male, sto male, sto male, sto male. Un conto è, ma sì, tanto chi mi mette in galera, ma dentro di lui la sopriva la roba. Appena mercoledì scorso, Ermes Mattielli era stato ospite del direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli in una puntata speciale di Focus, assieme a Stacchio e Zancan. La sua ultima apparizione pubblica è prima del malore fatale, l'ultima occasione per urlare l'ingiustizia di cui si sentiva vittima, non quella dei ladri, quella dell'ordinamento italiano. Fanno quello che vogliono, anche perché se sbagliano nessuno li può giudicare. Sono delle persone inviolabili. È qui che invece di cambiare le leggi bisognerebbe poterli licenziare quella gente lì, cacciare via. Quando uno non lo può licenziare, lui fa quello che vuole. Dalla montagna, come ha detto Tortora, lo mandano al mare, dal mare in collina e lui si diverte.